L'Italia che punta dritto l'innovazione, il recupero, la ripresa per quanto riguarda il contesto economico e lo fa con i suoi protagonisti principali, quelli che sul campo quotidianamente provano a riagganciare la via della ripresa e della crescita, ovvero le regioni. Allora un appuntamento interamente dedicato a quella che è l'attività delle regioni italiane. Partiamo subito da una delle regioni più vive, più virtuose, ovvero la Liguria. Siamo in compagnia, abbiamo in studio due rappresentanti di due società dinamiche che stanno provando a riagganciare la ripresa economica. Presento subito Luca Batello a The Circle. Di cosa vi occupate? Noi siamo una società di consulenza e di innovazione. Passiamo anche all'innovazione, lo facciamo con Maurizio Turci, CFO HR Director di Itamatch Chemicals. Di cosa vi occupate? Itamatch Chemicals è una multinazionale delle specialità chimiche presente in tutto il mondo. Ha quattro business unit sostanzialmente plastica, additivi per oli lubrificanti, personal care e serviamo quindi primarie multinazionali in questi settori a livello globale, a livello mondo. Turci, intanto buon compleanno perché è il vostro ventesimo compleanno 1997-2017. La domanda è facile, cosa è cambiata? In realtà penso che sia cambiato tutto. La vostra storia è poi anche paradigmatica di quelle che potrebbe essere, poi anche il futuro, non solo il presente ma soprattutto il futuro della Liguria perché avete un cuore che ha spoleto e invece il cervello a Genova. Ci racconti come avete fatto la sintesi di tutte queste componenti? Grazie direttore. Effettivamente noi nasciamo nel 1997 attraverso un'operazione di management buyout che forse rappresentava allora un sogno, un sogno adesso direi quasi realtà. Nasciamo aggregando quindi finanza e capitale umano, ci facciamo supportare da banche e alcuni manager tuttora presenti in azienda lanciano questo progetto di chimica delle specialità. Cresciamo, partiamo da uno stabilimento, ci internazionalizziamo e adesso rappresentiamo un player nella chimica delle specialità piuttosto importante. Da subito decidemmo di investire in Genova, partimmo da una sede a Genova nel WTC e adesso dall'anno scorso ci siamo spostati in un posto che definirei iconico del porto antico. Abbiamo anche una fotografia su questo, tra pochissimo la mostriamo che ha immortalato lei e il dottor Iorio proprio nella nuova sede che si trova vicino al porto. Assolutamente, ci siamo nei magazzini del cotone, un posto veramente incantevole ma soprattutto tengo a precisare siamo partiti a Genova, ci abbiamo creduto come direzione generale e appunto l'anno scorso abbiamo fatto questo ulteriore investimento che rappresenta quasi una sorta di nuova identità, modello industriale ma anche culturale essendo inseriti in un contesto molto importante della città. Turci, non soltanto Sud Europa nel radar di Italmatch Chemicals perché insomma abbiamo riassunto anche quelli che sono i vostri numeri, un fatturato che l'abbiamo aggiornato poco fa a 350 milioni di euro, tra un po' magari ci dice se c'è qualche operazione in campo, 4 mercati da leader, lubrificanti, acqua e petrolio e plastica ma soprattutto anche cura del corpo che non è così scontato e poi 12 impianti produttivi, 6 in Europa, 4 in Asia, Pacifico, 2 negli Stati Uniti e poi 15 centri logistici insomma con una copertura globale delle vendite. Insomma globali e internazionali ci siete già, dov'è che appunto si può ancora far meglio? Beh intanto ci terei a precisare certo 15 stabilimenti, centri di ricerca ma mi fa piacere ricordare il centro direzione Cervello a Genova dove abbiamo anche un processo di attrazione di talenti soprattutto appunto per i servizi generali che gestiamo da Genova. Sicuramente stiamo facendo scouting ed espansione su alcuni mercati, in particolare vorremmo ancora puntare sia sull'estremo oriente, Cina in particolare e anche America per complementare delle acquisizioni che già abbiamo fatto recentemente, cito notizie di stampa abbastanza recenti, la nostra acquisizione in Sud America in particolare in Brasile dove abbiamo costituito, abbiamo acquisito una società per ulteriormente migliorare e costituire un centro di distribuzione di prodotti, trattamento acque e oil and gas. Quindi abbiamo allo studio alcuni dossier, questi dossier in questo momento riguardano Nord America e Cina. Turci, Digital Transformation nel vostro caso, intanto ci tengo poco fa a ricordare che non è soltanto chimica pesante, insomma è anche chimica soft quella che fate voi. No, chimica soft, chimica dell'uso quotidiano di prodotti, di soluzioni che abbiamo anche nelle nostre case. Quindi assolutamente noi siamo nella chimica di specialità e non nella chimica delle grandi commodity, dell'oil and gas, del petrolio e quindi facciamo prodotti che sono di uso quotidiano. No, Digital Transformation sicuramente importante e facciamo molta ricerca e sviluppo. Abbiamo beneficiato, stiamo beneficiando di alcuni interventi, di alcune soluzioni del piano calenda e questo ci permette sicuramente di portare avanti meglio certi progetti che attualmente stiamo anche sviluppando sul territorio grazie sia all'università che a centri di eccellenza, ne cito uno, il TICAS che rappresenta sicuramente un modello importante con il quale per esempio abbiamo avviato dei progetti sul trattamento acque e tutto questo ci permette sicuramente di crescere e di anche fare partnership con primari player internazionali, ne cito alcuni, Shell nelle turbine eoliche, BASF nella plastica, per i quali siamo non solo, loro sono non solo clienti ma decisamente partner nella ricerca e sviluppo. Quindi volendo valutare, dottor Turci, il piano industria 4.0, adesso è impresa 4.0, era quello che mancava o anche in questo caso si poteva forse usare di più? Sicuramente ci sono degli strumenti, noi abbiamo utilizzato per, nell'ambito appunto della, come dicevo prima, dell'innovazione, abbiamo uno degli strumenti più utilizzati, il cosiddetto patent box, mi sembra uno strumento anche innovativo, va forse migliorato nelle modalità di execution, nel re-hulling con l'agenzia delle entrate, però sicuramente una grossa opportunità che avvicina l'impresa al territorio, che avvicina l'impresa alle stesse istituzioni, in questo caso fiscali che devono, con i quali c'è apertura, collaborazione, eccetera. No, rappresenta un'opportunità e noi in parte l'abbiamo colta per quello che riusciamo anche a livello, essendo molto internazionale e queste sono spesso misure anche nazionali, però sicuramente un esempio positivo. Se mi è concesso, prima parlavo di attrazione dei talenti, questo è un tema molto importante per sviluppare, specie nella ricerca e sviluppo, nella digital transformation, ora non vorrei citare Kurzweil, futurologo, o il teorema della seconda metà della scacchiera, però noi siamo nella seconda metà della scacchiera di Kurzweil. Ora, però, occorre essere aiutati. Bene, il piano calenda aiuta. Io vedo solo e vorrei cogliere l'occasione per chiedere anche alle istituzioni maggiore attenzione sulle infrastrutture. L'età anagrafica non si discute, 30 anni fa i miei primi lavori, il primo lavoro oltre 30 anni fa era qua vicino, a 3-4 km di distanza da questi studios. Andavo in treno, 1 ora e 45 minuti, sono passati 30 anni, la velocità alta è triplicata, Genova e Milano si continua a fare in 1 ora e 45 minuti. Quindi sono cose che fanno riflettere, non voglio citare anche l'aeroporto, chiaramente ci sono logiche di hub, c'era un bellissimo, comodissimo, malpensa Genova a 30 minuti, vabbè ok, inefficiente forse economicamente, i corti raggi sono stati sospressi, ma certamente occorre che Genova deve avvicinarsi ai grandi centri, in questo caso Milano, per favorire un incoming non solo turistico ma proprio anche nelle persone, nel capitale umano. Dottor Turci, abbiamo visto appunto internazionalizzare e digitalizzare, ma insomma poi la base parte è proprio dalla ricerca e l'innovazione. Tra l'altro a Genova è la sede dell'Istituto Italiano di Tecnologia, appunto il professor Cingolani ormai è diventato un testimonial dell'eccellenza italiana. Da questo punto di vista quanto è importante salvaguardare questa che magari è una delle poche cose che è rimasta del nostro Made in Italy? No, direi è fondamentale, dicevo prima, abbiamo 5 centri di ricerca e sviluppo, comunque tre li abbiamo in Italia, abbiamo anche studi, pipeline, la ricerca e sviluppo anche su nuovi material trend e quindi direi è sicuramente fondamentale. Occorre anche un approccio a mio parere un po' forse innovativo, nel senso che, citando, mi viene in mente un bellissimo libro che ho letto recentemente del capo del World Economic Forum, Schwarz, c'era la vecchia teoria che il pesce grande mangia il pesce piccolo, adesso forse è il pesce veloce che mangia quello lento. Cosa vuol dire velocità nell'azienda e spesso anche nell'innovazione e nella ricerca sviluppo, vuol dire talvolta anche scienza ma anche intuito, istinto e quindi un insieme di fattori che possono e devono, vanno tutelati e ripeto, forse anche un po' nella mia funzione, credo fortemente nel capitale umano, nei talenti, nei giovani, nella generazione Y, nella generazione Z, che sono i futuri attori, i manager delle nostre industrie. Ecco, questo capitale va sicuramente ricercato, attratto e preservato. Siamo in conclusione, facendo quindi un punto, dottor Turci, la nave Liguria si è rimessa in moto, insomma non l'abbandonerete, dato che ci siete rimasti anche nei momenti più difficili. Assolutamente, anzi vorremmo crescere, vorremmo crescere soprattutto come direzione generale appunto in quei servizi centrali, corporate, che ci permettono di seguire tutte le varie attività all'estero. Ci crediamo, siamo fortemente convinti e chiediamo semplicemente un supporto alla nostra, diciamo, disponibilità, non solo noi come Italia Metschkenico, ma ci sono altre realtà sicuramente prestigiosi che chiedono più servizi, chiedono più supporto e mi sembra che Genova e in generale la Liguria si sia rimessa in pista, non dico per forse ricreare quel triangolo industriale che forse non c'è più perché il triangolo lo dobbiamo un po' espandere anche all'Europa più che all'Italia, ma certamente credo che ci siano delle ottime prospettive di crescita e anche di tipo, come dicevo prima, anche non solo industriale ma anche culturale per accompagnare questi percorsi delle nostre aziende. Grazie intanto e buon lavoro dottor Luca Abatello, amministratore delegato di Circle e grazie anche buon lavoro a Maurizio Turci, CFO HR Director di Italmatch Chemicals. Grazie anche a voi per averci seguiti nello spazio Regioni 4.0, approfondimento interamente dedicato alla Liguria.